Climax 2018, architetta Alessia Mora, abbiamo parlato di tantissime cose in questa tavola rotonda in programma il 26 di gennaio, il 27 ne svolgeremo un'altra quindi voi già l'avrete vista, però un punto sicuramente secondo me fondamentale che è emerso in tutte le tavole rotonde è la consulenza che possono dare le aziende e i progettisti. Da questo punto di vista Celenit come si sta muovendo? Chiaramente poi avete anche un nuovo sito online che è stato strutturato in un modo molto, come dire, progett-oriented, proprio orientato dagli architetti. No, diciamo che Celenit da moltissimi anni si occupa di formazione dei progettisti per cui un canale principale che è quello che abbiamo scelto anche di condividere con te è quello della formazione. Facciamo eventi sia diretti, in direct, o eventi multi-sponsor con molte società perché tendiamo a differenziare il nostro pubblico e facciamo eventi online con appunto formazione a web e sono gli eventi che per noi diventano molto interessanti perché abbiamo molto spazio per poter approfondire le tematiche in maniera molto specifica, chiamiamolo così. Dopodiché accanto a questo aspetto principale Celenit si impegna assolutamente a rendere disponibile e trasparente tutte le sue documentazioni online nell'area download del sito che abbiamo fatto in modo di filtrare per renderla più consultabile. Infatti io ti avevo fatto i complimenti perché si vede veramente, come dire, l'impostazione da architetto per gli architetti e questo sicuramente nella leggibilità e nella consultazione è importante. Diventa sicuramente importante quello di cui abbiamo sempre parlato, ovvero lo step successivo, partire da questo per poi essere una voce attiva nei confronti dei progettisti. Sì, perché poi noi siamo, noi tecnici comunque ci occupiamo del marketing, abbiamo i nostri consulenti, le agenzie che ci aiutano, ma i contenuti li scegliamo noi, non è mai nulla di filtrato da altre persone, arriva tutto direttamente da noi. Poi c'è il filo diretto, nel sito ci sono i contatti dei nostri funzionari che rispondono sempre e ci siamo noi in ufficio che comunque diamo consulenza tecnica a 360 gradi sulle tematiche edili ed acustiche, significa che noi se non riusciamo ad arrivare con i nostri prodotti alla soluzione consigliamo anche le alternative, quindi arriviamo sempre a proporre il giusto, la giusta soluzione rispetto a quelle che sono le richieste del committente, perché a volte veniamo contattati direttamente dai privati o dal progettista o dal termotecnico, chiunque abbia bisogno di informazioni, per cui la nostra disponibilità è sempre massima nel dare risposta ai clienti in tempi anche rapidi.